Alessandro Petri che è Product Manager, Marketing Manager d'Italia di Vecobus di raccontarci un po' cosa vuol dire applicare l'idrogeno e non solo l'idrogeno magari ai mesi di trasporto. Grazie mille, intanto grazie per l'invito. Innanzitutto grazie per l'invito, voglio dire che anche per noi e anche per la collega che ha fatto l'intervento questa mattina è importante far parte di platee come queste e di poter avere la possibilità di dare anche il punto di vista del costruttore di autobus in questo caso ad idrogeno per condividere anche con voi quelle che sono ed è un po' l'obiettivo dell'intervento mio di oggi, condividere quelle che sono sicuramente le opportunità che l'idrogeno, vorrei dire oggi ma in realtà avrei preparato il discorso dicendo oggi, ascoltando domani, prossima settimana le opportunità appunto che ci offre questa tecnologia. In realtà oggi volevo appunto raccontarvi in breve che Iveco è un costruttore di mezzi di trasporto pubblici, quindi di autobus fondamentalmente che ha sede principalmente tra Torino e Lione in Francia con stabilimenti un po' in tutta Europa e è un player che costruisce autobus di tutte le categorie, di tutte le gamme quindi andiamo dal minibus, dallo scuolabus giallo fino all'autobus turistico ma la cosa più importante è che, stiamo vedendo già un po' oltre quindi siamo in grado di fornire oggi autobus diciamo di tutte le categorie ma soprattutto con tutta una serie di motorizzazioni che oggi danno al costruttore un elemento di difficoltà di gestione di tutte queste diverse drive line diverse tecnologie che mutano nel tempo, che hanno bisogno di essere aggiornate che seguono delle regolamentazioni ma che soprattutto seguono delle regole di mercato io mi occupo di prodotto ma anche di marketing quindi seguo anche quelli che sono gli andamenti nel mercato dei nostri prodotti che hanno sulla base dell'ingresso delle nuove normative piuttosto che sulla base di incentivi e fondi degli andamenti che sarebbero altrimenti diciamo incomprensibili. Oggi teniamo tra virgolette diciamo in piedi una gamma fatta di veicoli che si possono muovere con il carburante tradizionale diesel che possono essere mild hybrid quindi possono essere dei diesel che si muovono in parte con l'ausilio di una batteria abbiamo dei veicoli ibridi che si muovono sia a CNG sia con una batteria solo CNG, abbiamo i veicoli elettrici e poi infine oggi siamo qui per parlare di idrogeno quindi di fatto abbiamo anche un veicolo di idrogeno che abbiamo presentato l'anno scorso all'inizio dell'anno scorso nei vari saloni internazionali ed è un veicolo sul quale oggi vorrei concentrare forse una parte importante di questo speech proprio perché mi piacerebbe raccontarvi come funziona questo veicolo di idrogeno si parla di veicoli di idrogeno con la combustione, un veicolo con motore a combustione interna di veicoli di idrogeno basati sulla fuel cell oggi volevo cogliere questa opportunità per raccontarvi come funziona il nostro fondamentalmente in una slide che potrebbe sembrare diciamo complicata e cercherò di rendere semplice che anche questi movimenti che a me non fanno impazzire ma insomma rendono l'idea e che funziona un po' così fondamentalmente abbiamo questo veicolo che all'interno del quale vedrete vedete appunto nell'immagine ci sono le parti in azzurro che sono le parti diciamo fondamentali c'è un laser qui? forse sì sono per utile per spostare le diapositive ah ok va bene perfetto comunque la parte in azzurro diciamo la parte fondamentale di questo veicolo diciamo è la parte di novità rispetto a un veicolo elettrico perché poi fondamentalmente siamo partiti da quello che è un veicolo elettrico all'interno del quale abbiamo deciso di stoccare l'energia non sotto forma di batterie non con l'utilizzo delle batterie ma con l'utilizzo di bombole che portano idrogeno e che attraverso la fuel cell che sta in quello che io chiamo l'ex vano motore perché il motore non c'è più trasformano appunto all'occorrenza l'idrogeno in energia elettrica quindi di fatto partiamo all'interno di questo grafico che rappresenta la missione giornaliera del nostro veicolo che parte al mattino per portare le persone al lavoro a scuola, in vacanza, in giro, ovunque vogliano parte con una ricarica completa sia di idrogeno sia delle batterie quindi al 100% di ricarica sia di idrogeno che delle batterie in questa fase le due energie collaborano a muovere il veicolo attraverso appunto il motore elettrico fino al momento in cui all'interno della seconda figura la batteria raggiunge uno stato di carica del 45% ed ecco che quando la batteria raggiunge il 45% iniziamo ad utilizzare l'idrogeno per mantenere lo stato di carica della batteria tra il 45% e il 55% perché è questo? perché il livello di degradazione delle batterie varia molto sulla base dei cicli sulla base della frequenza dei cicli ma soprattutto sulla base della profondità di scarica del ciclo quindi se la utilizziamo all'interno di un range molto molto piccolo come quello del 10% quindi tra il 45% e il 55% garantiamo la durata della batteria molto molto lunga fino al momento in cui appunto nell'eventualità lo dico perché le autonomie testate sono veramente molto soddisfacenti nell'eventualità che finissimo l'idrogeno noi rimaniamo con una batteria in ogni caso al 55% ci spostiamo nella terza figura per cui in quel caso ecco che il veicolo ci segnala che l'idrogeno è finito abbiamo ancora il 55% di batteria ed è una batteria relativamente limitata lo vedremo dopo rispetto ad una batteria in un veicolo elettrico che ci permette comunque di finire la nostra missione e di riportare il veicolo in deposito stiamo parlando di veicoli che ad oggi hanno su un veicolo 12 metri con un pacco di batterie relativamente limitato che è pari a un settimo di un veicolo full electric quindi portiamo molto meno peso a bordo del veicolo per stoccare l'energia quindi portiamo molte meno persone su un veicolo 12 metri portiamo circa 18-20 persone in più rispetto ad un veicolo full electric quindi questo è già uno dei grandi vantaggi ecco che appunto riusciamo a chiudere la nostra missione in ogni caso quindi parliamo di autonomie che vanno su un veicolo di 12 metri abbondantemente sopra i 450 chilometri quindi stiamo parlando comunque di autonomie molto importanti detto questo, vista un po' la tecnologia del veicolo l'idea era un po' quella di dare un punto di vista che è quello che ho appunto segnalato qui ma mi piace di più sottolineare anche altri aspetti dal punto di vista del cliente, dell'azienda di trasporto pubblico quindi in questo caso quali sono i vantaggi o le cose da tenere in considerazione su un veicolo ad idrogeno innanzitutto l'autonomia l'abbiamo detto prima sopra i 400 chilometri di mission giornaliera quindi per un utilizzo che va oltre 400 chilometri ad oggi dal punto di vista tecnologico quindi non parliamo del punto di vista oggi economico ma squisitamente tecnologico è una soluzione ottimale per poter appunto portare a termine il nostro servizio la capacità passeggeri l'abbiamo detto prima portiamo 18-20 passeggeri in più rispetto ad un veicolo full elettrico il tempo di rifornimento con l'idrogeno raggiungiamo a livello di operation come tempistica di rifornimento siamo assolutamente paragonabili a un veicolo diesel quindi ecco che viene colmato quel gap appunto di delta operation all'interno del deposito dei veicoli e nel momento in cui e qui si apre un capitolo interessante nel momento in cui ci dovesse essere quello che noi in gergo di trasporto pubblico diciamo chiamiamo il veicolo interurbano che dorme fuori si dice no? quindi quelle piccole stazioncine vicino al distributore dove ci sono 5-6 veicoli interurbani che dormono fuori non sono in un deposito c'è la possibilità eventualmente di appunto rifornire il veicolo o con delle bombole di idrogeno oppure nell'eventualità di sviluppi futuri successivi nella nostra visione c'è la possibilità di poter ricaricare la batteria con l'idrogeno stoccato a bordo nel caso in cui la mission non sia così ampia non sia oltre ovviamente i 400 km per potersi ricaricare autonomamente quindi il veicolo può fare in autonomia un rifornimento di fatto di energia parziale tra quello che è l'inizio della mission e la fine della mission per concluderla eventualmente il giorno dopo un minuto io direi che allora per quello che riguarda i messaggi che volevo passare fondamentalmente sono stato spero breve spero nei tempi il messaggio appunto che volevo sottolineare visto che ho ancora qualche secondo è proprio questo oggi la sfida che noi che noi affrontiamo è quella di avere dei costi fondamentalmente anche a livello aziendale di gestione e di struttura per poter mantenere in piedi tutte queste varie diciamo drive line perché a quelle a livello veicolare quindi a livello di autobus e di opzioni appunto continuiamo a fornire tutte le customizzazioni e tutte le opzioni veicolari che si aggiungono a livello di complessità e con questo vi ringrazio grazie a voi grazie grazie grazie